In questo numero di Motori Magazine. Mercedes AMG classe S, comfort e performance. Alla scoperta dell'Europa centrale con l'Electric Travel Guide Nissan. BMW celebra il centenario con la R9T e la R18. La classe S ha sempre avuto un ruolo importante per Mercedes AMG. Già più di 50 anni fa i fondatori hanno dimostrato di saper trasformare una berlina di lusso in una vettura sportiva. Nel 1971 con la Mercedes-Benz 300 SL 6.8 AMG il marchio di auto sportive e ad alte prestazioni di halterback ha segnato l'inizio di una nuova era. Oggi la nuova Mercedes AMG S 63 e performance con tecnologia ibrida è nuovamente il punto di riferimento nel segmento. Il modello combina il motore V8 biturbo da 4 litri con la catena cinematica ibrida specifica e una nuova versione potenziata della batteria high performance. Il contenuto di energia passa da 6,1 a 13,1 kWh. L'autonomia puramente elettrica aumenta quindi a 33 km. Tuttavia l'obiettivo perseguito con questa catena cinematica non è tanto l'autonomia elettrica quanto contare sulle prestazioni migliori della sua categoria. Con una potenza complessiva di 802 CV e una coppia complessiva di 1430 Nm la berlina stabilisce nuovi standard nel segmento. L'accelerazione di 3,3 secondi da 0 a 100 km orari e la velocità massima opzionale di 290 km orari sottolineano le prestazioni di guida superiori e dinamiche. Sistemi come il telaio AMG Ride Frontal Plus, il sistema antirollio e l'asse posteriore sterzante di serie garantiscono un'ampia gamma di scelta tra dinamica di marcia e comfort. Nissan arricchisce le nuove destinazioni la sua Electric Travel Guide, l'applicazione progettata per aiutare i clienti dei veicoli elettrici a pianificare viaggi e gite completamente sostenibili. I nuovi itinerari proposti da Nissan fanno tappa in quattro paesi dell'Europa centrale, Austria, Repubblica Ceca, Ungheria e Slovacchia. Pensata per aiutare i turisti a trascorrere vacanze più consapevoli e interessanti, l'applicazione Nissan offre un mix di cultura, cucina e natura, collegando i luoghi più importanti e caratteristici da visitare attraverso percorsi suggestivi, mettendo insieme una serie di proposte per la ristorazione, per gli hotel, per attrazioni locali e punti di ricarica per veicoli elettrici. I viaggiatori di tutto il mondo danno sempre maggiore importanza all'impatto ambientale quando pianificano i propri viaggi. Ben 8 persone su 10, 81%, preferiscono viaggiare verso destinazioni dove possono immergersi nella cultura locale, mentre 6 su 10, 62%, affermano di voler essere più attenti a dove e come viaggiare. La guida contiene tante possibili mete interessanti come il famoso teatro dell'Opera di Vienna, le impareggiabili vedute di Praga, la città delle 100 torri, il maestoso castello di Budapest o il più antico parco pubblico dell'Europa a Bratislava. BMW Motorrad presenta le due protagoniste del mondo Heritage Experience, la Roadster R9T e la Cruiser R18 con Big Boxer nell'edizione speciale One Under Ears. Il cuore è sempre il motore boxer a due cilindri raffreddato ad aria e olio da 109 CV. Nell'edizione anniversario il motore è accompagnato da un'ampia gamma di optional e da un concept di superficie ricercato. Il sebatoio è una combinazione di nero con cromo e un doppio filetto bianco ed è completato da protezioni nella zona delle ginocchia e dal beige celebrativo. La classica cromatura è presente anche sulla gobba della sella. Il parafango anteriore è verniciato in nero ed è caratterizzato dal doppio filetto bianco. La sella bicolore nero Oxblood completa il look di alta gamma. Completano il tutto numerosi componenti neri come i tubi della forcella, lo snorkel della presa d'aria. La R9T comprende l'opzione ruote 719 Classic con cerchi anodizzati neri, il pacchetto di parti fresate Option 719 Shadow con coperchi della testa del cilindro fresati, coperchi del carter del motore, supporti per la sella, tappo di riempimento dell'olio. Il pezzo forte della R18 invece è il motore boxer da 91 cavalli con la più grande cilindrata mai installata da BMW Motorrad. La colorazione è in Classic Chrome e combina verniciatura nera e superfici cromate lucide, oltre al doppio filetto bianco e al beige 100 years. Il sedile dell'option 719 rivestito nella combinazione bicolore nero Oxblood con una pregiata goffratura a diamante si integra perfettamente. L'R18 è completata da numerose parti cromate dell'option cromdesign.